Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Zanjan 210 X 130. Questi tappeti vengono annodati nella città di Zanjan, nell'Iran settentrionale. Sono solitamente molto colorati e realizzati con lana di buona qualità. I motivi sono geometrici, con un medaglione diamante centrale che si estende da cima a fondo. Sono tappeti con un buon rapporto, qualità-prezzo e fanno parte del gruppo dei tappeti di Amadan. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.